Ciao a tutti amici di Pistachissimo.it, sono al bucaniere a Catania. Qualche giorno fa ho provato questa cosa veramente spettacolare e dovevo assolutamente farvela vedere. Questa meraviglia si chiama pan pistacchio. All'esterno troviamo un impasto al pistacchio e all'interno crema di pistacchio, formaggio, hamburger con cuore di pistacchio e mortadella. Tre sono le cose che colpiscono ancora prima di assaggiarlo. Intanto il profumo di pistacchio che emana veramente intenso, poi la morbidezza dell'impasto lievitato benissimo e soprattutto il colore della crema di pistacchio veramente fantastica, è verdissima e poi piena di granella di pistacchio veramente spettacolare. E quindi farò il sacrificio di mangiarlo per raccontarvelo meglio. No, no, no. La crema di pistacchio è veramente squisita, è una delle più buone che abbiamo mangiato e poi l'impasto è lievitato benissimo, è veramente buono, buono, buono e dentro c'è questo cuore di carne morbidissimo, veramente fantastico. Cioè guardate cosa c'è dentro di pistacchio, è veramente impressionante, veramente wow. E quindi se volete provarlo lo trovate qui al bucaniere a Catania, si chiama Pampistacchio e come avete capito è straconciliato.